Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono CrazyGame, in questo nuovo video inizio una nuova serie dove praticamente io andrò a disegnare cose totalmente a cazzo cioè andrò a disegnare con Paint.net che è anche molto più difficile e se voi mi volete consigliare qualche disegno mi mandate dello screenshot oppure mi contattate in privato e io ve lo faccio ora dopo alla fine del video vi faccio vedere il mio primo tentativo totalmente da me a fare una, come cazzo se la chiamerò, non lo so, perché c'è un pescello dopo un disegno e ora lo provo a ricopiare rifatto da capo. Andiamo subito Ciao a tutti! 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 Oh yes, is that amazing Yeah, my god, is that amazing Oh yes, is that amazing Oh yes, is that amazing Oh yes, is that amazing Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.